Foracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che nessuno conosce. Sono veramente euforico perché in questo video ricchissimo potrò porre finalmente fine a uno dei più grandi rumor della storia dei videogiochi, una storiella che ci portiamo appresso da 30 anni. Sì, Pokémon per PlayStation esiste e non si tratta di una copia tarocca di Rescue Shot, ma di un titolo ufficiale pubblicato da Sony e sviluppato da Game Freak per PlayStation 1 nel 1999. E seguitemi in questo viaggio assurdo perché ci stiamo per addentrare nella zona buia della storia videoludica, dove nessuno sa niente e gran parte delle informazioni vanno ricostruite neanche fossimo dei detective professionisti, anzi, po' professionisti. Se video del genere vi piacciono, mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto dateci di sordi. Io ho detto tutto, un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, iniziamo! Bisogna partire ovviamente dal principio e lo so che praticamente tutti quanti conoscerete già la storia di Pokémon su PlayStation, almeno qui in Italia. Sul finire degli anni 90 e all'inizio del 2000 c'era una richiesta a gran voce di un titolo Pokémon su console fissa e visto che l'hardware più diffuso dell'epoca era la PS1 e da ragazzini non è che si avesse proprio un quadro completo di come funzionassero le esclusive, un po' tutti in fondo al cuore speravamo nel miracolo che prima o poi sto Pokémon per PlayStation 1 apparisse. Io mi ricordo ancora di quando da piccolo durante un allenamento di atletica leggera conobbi un bambino che si presentò con una storia incredibile. In pratica il padre che di mestiere faceva l'ostetrico aveva fatto partorire la rappresentante italiana di Sony che, per ringraziarlo dell'ottimo lavoro svolto, aveva deciso di donargli in anteprima una copia di Pokémon per PlayStation. Io da persona molto matura rosicai tantissimo, tornai a casa e mi incazzai anche un po' con mio padre per fare un lavoro dove nessuno gli aveva mai regalato un gioco PlayStation. Insomma pur di credere all'esistenza di Pokémon per PlayStation eravamo pronti a tagliare i rapporti con amici e parenti ed è per questo che i venditori di CD Tarocchi iniziarono ad approfittare di questa domanda inventandosi l'offerta e le bancarelle furono rapidamente in base da jewel case con artwork orrendi che promettevano l'arrivo dei mostriciattoli tascabili su console Sony. Il disco masterizzato però aveva al suo interno la ISO di Rescue Shot, un gioco che non c'entrava niente con le produzioni Game Freak, ma a quel punto te lo facevi andare bene. Quello era Pokémon, non si discuteva. Ma a questo punto facciamo un salto in avanti di ben 30 anni dove ci sono io che di sera mi diletto nella mia attività preferita su internet. Infatti sono entrato nel buco nero dei canali minuscoli consigliati dall'algoritmo di YouTube e mi stavo guardando un bel video con meno di 500 visualizzazioni ad opera di Crispy Biscuit su Puppeteer per PlayStation 3. Ora non stiamo gli a giudicare come spreco il mio tempo libero, concentriamoci sull'operato di Crispy Biscuits. Infatti questo video molto figo inizia con una disamina sul concetto di Forgotten Jam e nel mentre passano a schermo delle immagini di titoli semi-sconosciuti. Alcuni li ho già visti, altri proprio no, e vengo incuriosito da questo platform 2D con protagonista Un Elefante. L'art style indica una produzione abbastanza recente e facendo un po' di ricerche scopro con mia grande sorpresa che si tratta di un titolo pubblicato nel 2015 da Game Freak. Tembo The Badass Elephant è stato diretto tra l'altro da James Darner, un nome di rilievo all'interno della Game Freak contemporanea ed è anche la mente che c'è dietro all'interessantissimo Plucky Squire di prossima uscita. Sappiamo che Game Freak nasce come studio indipendente per poi vedere il suo nome indissolubilmente legato a Nintendo e Pokémon, ma comunque, con risultati non sempre entusiasmanti, ancora oggi continua a pubblicare titoli multipiattaforma come Gigawreck, Little Town Hero, Pocket Card Jockey e via dicendo. Mi viene così in mente l'idea di fare un video sulle produzioni Game Freak all'infuori di Pokémon. Insomma, è un argomento stra-interessante e soprattutto ne potrebbe uscire fuori una comparazione molto attuale tra quello che era l'apporto creativo di Game Freak prima di Pokémon e lo stallo produttivo in cui si è impantanata l'azienda negli ultimi anni. Sì, perché dovete sapere che Game Freak si è sempre mossa in un ambito molto sperimentale e con le sue produzioni ha coperto tanti generi diversi sin dal suo esordio su NES con il particolare Mandal Palace. C'erano poi le rivisitazioni più tradizionali di puzzle game alla Tetris con Mario e Yoshi o il coloratissimo non tanto isho, Kuru Kuru Puzzle. Nel 1991 il platform Smart Ball veniva pubblicato su Super Nintendo da Sony. Una bella anomalia se vista con gli occhi di oggi. Oppure nel 1994 Game Freak creava Pulseman in esclusiva per Mega Drive. Questo lo trovate anche nel pacchetto aggiuntivo dell'NSO e vi consiglio di provarlo perché è un platform niente male. Soprattutto è un titolo messo in pieti da Sugimori, Tajiri, Masuda e tanti altri nomi che diventeranno poi il cuore del team Pokémon. Ed effettivamente, guardando i titoli di quegli anni, è possibile già riscontrare tante idee di design che poi verranno traslate nella loro creazione più famosa. Ma è in questo momento che mi cade l'occhio su un titolo di cui non ho mai sentito parlare. Clickmedic, un gioco esclusivo per PlayStation 1, uscito dopo Pokémon Giallo ma prima della seconda generazione, che non ha mai varcato i confini del Giappone e che non ha neanche una pagina Wikipedia dedicata. Ed è qui che mi si è aperto un mondo, perché in Occidente praticamente nessuno si è accorto dell'uscita di questo titolo. Non esistono recensioni, non esistono articoli al riguardo e reperire anche le informazioni basilari su questa produzione è praticamente impossibile. E questa cosa è molto particolare perché in realtà Clickmedic ha tantissimi punti di contatto con Pokémon e ora vi spiego tutto quello che sono riuscito a scoprire sul titolo e anche sul come sono riuscito a farlo. Ma fermi tutti, prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otogi Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otogi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti. Roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce ne è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otogi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otogi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otogi Retro Games e andiamo avanti. Dunque le prime informazioni utili ci arrivano da questi due spezzoni di gameplay caricati da questo canale YouTube che rimanda al collettivo Gaming Sanctuary che si occupa di archiviare giochi sconosciuti. I caricamenti risalgono al 2010, un'eternità fa, ma leggendo i commenti possiamo vedere come già all'epoca sto gioco non se lo ricordasse nessuno. Il proprietario del canale scrive, l'ho comprato da un negozio di quartiere che di tanto in tanto vende giochi import. L'ho pagato circa 10 dollari qualche mese fa. Ogni tanto arriva pure su ebay, non costa tanto ma è molto raro da trovare. Ed effettivamente ancora oggi del gioco non c'è praticamente traccia su ebay. Niente tra i venduti e ce ne sono solo due copie in vendita. Sarebbe assurdo se qualcuno oggi si mettesse a contrattare col venditore per comprarsi un gioco del genere. E mentre aspettiamo che la mia copia arrivi a casa, continuiamo con l'indagine, sperando che Cacioppo non vi dà mai questo video. L'unico altro sito dove sono riuscito a trovare informazioni a riguardo è questo topic su NeoGaff, dove però tutte le informazioni sono riprese dalla descrizione del video che abbiamo visto prima. Praticamente questo eroe non solo ha caricato la prima mezz'ora di gioco, ma spiega anche quello che succede al suo interno. Dunque ClickMedic è una sorta di visual novel ambientata nel futuro, cioè nel 2016 che era il futuro per il 1999. Qui l'umanità è soggetta a nuove malattie esotiche che stanno facendo ammalare tutti quanti e molti muoiono anche, una situazione catastrofica. Per contrastare questa terribile epidemia i dottori si inventano la Virtual Body Machine, un apparecchio che consente di avere un confronto diretto con l'origine di questo male. Questa è infatti una sorta di navicella che può essere equipaggiata con degli anticorpi specifici e che permette di diventare minuscoli per entrare fisicamente all'interno del paziente e combattere i virus, chiamati Bracus, in un faccia a faccia che immagino sia carico di tensione. Il gameplay si divide in tre fasi. Nella prima si gira per l'ospedale e si raccolgono informazioni sul paziente nel tentativo di capire quale sia l'entità della malattia che lo affligge e anche come combatterla. Nella seconda parte si viaggia all'interno del corpo umano, scegliendo il percorso più corretto, sempre attraversando chilometri e chilometri di scritte in giapponese, per evitare ulteriori danni alla salute del paziente ed agire così in modo tempestivo. Nella terza fase c'è il combattimento vero e proprio, che sembra più un puzzle game. Qui, mentre si cerca di debellare l'infezione schierando in campo gli anticorpi, vanno tenute sott'occhio sia le funzioni vitali del paziente sia l'autonomia della VBM. Ma è qui che si palesa un primo punto di contatto con il mondo Pokémon, ovvero nella scelta degli anticorpi. Giustamente sul NeoGAF questo titolo viene indicato come un Poké Germ Game e basta dare uno sguardo anche distratto a queste creature per rendersi conto del perché. Qui si vede tantissimo la firma di Ota e Sugimori e i tre anticorpi iniziali, Itla, Zoltan e Neblus, protagonisti anche dell'artwork in copertina, hanno tanti microelementi che possono ricordare le forme di Starmie, gli occhi di Metapod, il volto di Arcanine e via dicendo. Anche gli anticorpi più avanzati ripropongono tanti elementi familiari, proprio come questi che vi sto mostrando adesso. Se non foste pienamente convinti delle somiglianze, guardate anche il character design dei dottori che si vedono nell'intro del gioco. Qui stiamo a un passo da Oak ed Elm, la somiglianza è indiscutibile. Ma appunto non può trattarsi di plagio perché semplicemente sono gli stessi autori di Pokémon che in Clickmedic hanno messo la loro firma e rimodulato tanti dei loro lavori passati. Su Moby Games sono riuscito a trovare i credits completi del titolo e a ulteriore dimostrazione della continuità con l'universo Pokémon, la musica è stata composta da Go Ichinose, un nome che i fan riconosceranno di sicuro. Anche se non siete dei super appassionati, recuperatevi pure la colonna sonora su YouTube perché spacca di brutto, ma poi ascoltando passaggi come questo non si può far finta di niente. La cosa che mi manda ai matti è che in Giappone questo titolo sembra essere abbastanza conosciuto, ad esempio in questo speciale per il trentesimo anniversario di Game Freak Masuda parla a lungo del titolo, ma attivando i sottotitoli automatici non si capisce una bene amata mazza, quindi come testimonianza non è che ci torni così utile. C'è chi dice che fosse stata prevista una localizzazione per il titolo e chi addirittura giura di averne vista una versione demo all'interno di un Jam Pack. Facendo un po' di ricerche ho scoperto che Jam Pack era una serie di demo ufficiali di Sony rilasciate per il mercato nordamericano sotto l'etichetta PlayStation Underground. Spesso questi dischi includevano demo di giochi import, dietro le quinte, salvataggi e anche cheat code, quindi non è da escludere che ClickMedic sia apparso in uno dei 17 volumi Jam Pack, ma anche consultando la lista Wikipedia che sembra completa del gioco non c'è traccia. Incredibilmente però, dopo più di un decennio di silenzio, lo scorso agosto è stato caricato un long play completo di ClickMedic da un utente che è riuscito a chiudere una perfect run. Nella descrizione del video vengono svelati alcuni lati del gameplay che non ho trovato da nessun'altra parte. Ad esempio la sequenza dei casi dei pazienti in cura è generata proceduralmente e a meno che non si segua lo stesso esatto iter del long play è impossibile replicare la stessa sequenza di casi da curare. Allo stesso modo il gioco è open-ended e dopo aver chiuso l'ultimo caso della storia si riceve una schermata di thank you solo se si è completato il titolo entro un determinato numero di settimane, ma comunque dopo i titoli di coda si può continuare a giocare senza una reale fine. Questo long play rimane utilissimo per scoprire nel dettaglio tutte le somiglianze con il brand pokemon senza dover necessariamente avere una conoscenza avanzata del giapponese. In descrizione vi lascerò il link a questo video e a tutte le altre fonti che ho utilizzato in fase di ricerca. E questo è tutto quello che sono riuscito a scoprire su ClickMedic. È assurdo che un gioco così atipico non sia discusso almeno tra gli appassionati, non trovate? Cioè stiamo parlando di un'esclusiva playstation 1 pubblicata da sony sviluppata da game freak che sembra un incrocio tra salto nel buio, trauma center e pokemon. Praticamente l'opera d'arte definitiva. Eppure nessuno la conosce. Il mondo è proprio strano. Io spero che questo video vi sia tornato utile in qualche modo. Io mi sono divertito molto a farlo e vi aspetto nei commenti per sapere che cosa ne pensate. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando fate bravi, dormendo, sonni tranquilli ma soprattutto nierdate duro. Io sono il Poro Click, Michele Medic, ciao! Ehi 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 fermo! Se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono una Bubu e sarò piccola ed esplorerò il Pudododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod